Sì, ho già giocato due finali, penso, ovviamente voglio vincere, però prima dobbiamo passare questa semifinale che non è facile. Io, come tutti noi giocatori da Roma, vogliamo vincere per il nostro club, per i nostri tifosi e vogliamo dare tutto. Più importante, perché per me è sempre la prossima partita più importante per la mia carriera. Un legame con il mister Murigno mi dà sempre fiducia, mi piace lavorare con lui e solo questo. Noi prepariamo questa partita come sempre, il nostro mister ha già giocato le partite così. Ho detto a noi che dobbiamo giocare con tutto, che dobbiamo essere concentrati, 90 minuti, perché Leverkusen ha qualità. È una grande squadra, sappiamo che giocare qui non è facile. Vediamo domani, vediamo, penso che abbiamo preparato la nostra partita, abbiamo preparato tutto e vediamo domani come finisce.